Buona serata, una speciale informazione che vuole ancora tirare l'attenzione sul nostro territorio, l'entroterra imperiese, la Valle Arroscia colpita dall'alluvione, abbiamo sempre nella mente e nel cuore le immagini di Monesi di Mendatica, Monesi di Triora, di tutto questo territorio, Piovediteco, Armo, Fornassio, queste zone e anche nel vicino Savonese, Cisano sul Neva, duramente colpite per le quali vogliamo che non si abbassi l'attenzione, non ho citato Rezzo e Lavina perché è con noi il sindaco di Rezzo, Renato Adorno e quindi buonasera Benvenuto, oggi il focus lo facciamo su Rezzo e Lavina anche perché finalmente si muove qualcosa in regione, ci sono delle delibere con qualche aiuto, si comincia a far arrivare qualche soldo nelle casse non solo della provincia ma anche dei comuni, speriamo che ne arrivino altri perché ho citato tutti questi comuni proprio perché per evidenziare che le esigenze sono di tanti e non di pochi, ahimè purtroppo perché ne avreste fatto volentieri a meno adorno voglio dire, qui non si tratta di avere dei soldi per fare qualcosa in più e di bello ad esempio per le manifestazioni splendide che fate estate e inverno a Rezzo, qua si tratta di risistemare questo disastro del territorio. Beh intanto buonasera a tutti, io voglio ringraziare pubblicamente la regione Liguria perché tramite la regione, tramite gli assessorati, tramite anche il suo presidente è l'unico ente in questo momento che ha fornito dei soldi sia per la viabilità provinciale attraverso la provincia quindi naturalmente l'Imperia sia direttamente ai comuni. Il problema è talmente ampio, talmente vasto che pensare che un comune piccolo come Rezzo o come Mendatica riesca a risolverlo da solo è praticamente impossibile, però in questo momento incominciamo finalmente a poter dare dei lavori per iniziare la messa in sicurezza del nostro territorio. Nell'ultima giunta regionale sono stati stanziati dei soldi direttamente al comune di Rezzo e in parte al comune di Rezzo tramite la provincia di Imperia perché anche la strada provinciale 17 è stata lesionata e questo per mettere in sicurezza sia il fronte della strada per cui finalmente avere almeno un'arteria aperta su Rezzo perché in questo momento Rezzo è aperto se non piove e la cosa non ci piace assolutamente. In caso di allerta, tra l'altro gialla, che è un'allerta non di massimo livello, un'allerta che può capitare ahimè anche spesso durante l'anno, in caso di allerta gialla vogliamo restare l'obbligo di chiudere la strada. Sì, la situazione è proprio questa, con l'allerta gialla noi, la provincia di Imperia deve chiudere la strada perché la strada è provinciale, noi subiamo questa situazione. C'è da dire che quando i geologi sia i geologi privati sia i geologi mandati dalla regione hanno verificato al fronte della frana e avevano dato la disponibilità di tenere la strada provinciale aperta, quantomeno se non fossero arrivate delle piogge intense come quelle che hanno colpito il territorio comunale dal 22 al 25 di novembre scorso. Poi la provincia, per garantirsi un pochettino di tranquillità, ma giustamente, aveva dato la possibilità di aprire la strada con l'alerta arancione, che comunque garantiva un'apertura della strada quindi una percorrabilità molto più tranquilla, voglio dire. L'alerta gialla a me viene data una volta a settimana forse anche meno, a volte con l'alerta gialla neanche piove tra l'altro, quindi è una situazione che onestamente non ci piace e non piace a nessuno degli abitanti di Rezzo. I lavori saranno comunque importanti nel senso dal punto di vista economico e anche dal punto di vista pratico, tecnico, perché io ho avuto modo di vedere questo fronte di frana anche dall'alto ed è veramente, quello che si vede in basso, pur il disastro, cioè questa casa trascinata via e niente rispetto a questo fronte di frana che parte fin da ceno, ma fin su in alto, si è staccata proprio un pezzo di montagna, voglio dire, lì è quasi cambiato il territorio, come del resto sta succedendo a Monesi. Ma sì, nel nostro territorio, in tutta la Valla Roscia, comunque tutta la alta Valla Roscia ha subito nei giorni dell'alluvione dei grossi problemi. Per quello che riguarda il mio territorio è cambiata la morfologia proprio della montagna. Questo fango, tutti questi detriti, poi si sono incanalati in un rio, tra l'altro un rio di pochissima entità, e sono andati a intervenire sull'abitato sulla frazione di Lavina. Ma il fronte della frana è veramente ampio, quindi se non si interviene per mettere in sicurezza tutto il lato della frana, purtroppo subiremo forse altri problemi di questo genere. Ecco perché, a mio avviso, la regione è stata particolarmente attenta nel territorio di Rezzo, perché ha capito che la situazione è veramente drammatica. Una situazione drammatica, ma comunque una situazione sulla quale ci vuole reazione. Ecco, non la resa, non dire... purtroppo abbiamo definito ultimamente paesi come Piaggia, Monesi, Valcona, paesi fantasma, perché evacuati, perché quindi abbandonati, con case lesionate. Questo non significa dire che è finita, si deve ricominciare. Cioè questo è importante, il messaggio deve essere sempre questo. No, 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 assolutamente, assolutamente. Noi vogliamo a tutti i costi difendere il nostro territorio. Le nostre popolazioni, le popolazioni dei paesi, dei paesi montani, non è gente che è abituata a piangersi addosso, è abituata a rimboccarsi le maniche... E non è neanche gente, mi scusi Adorno, che ha fatto delle speculazioni costruendo case nei torrenti, voglio dire. Assolutamente no. Per cui uno potrebbe dirgli, beh, potevi pensarci prima di... Qui lo vediamo, ecco, guardiamo queste immagini, parlano chiaro, voglio dire. Qui è successo un disastro che non dipende dal fatto che appunto c'era una casa in mezzo al torrente, ma è arrivato un torrente dove c'era una casa. E tra l'altro un torrente di fango, sassi, meno un corso d'acqua. Sì, no, tra l'altro una cosa a cui tengo molto a ribadire, queste case hanno fatto da argine alla frana. Mi spiego meglio, se noi non avessimo avuto queste case, ahimè per i proprietari delle case che hanno perso veramente tutto, ma se non avessimo avuto queste case posizionate in loco, probabilmente oggi parleremo di altre conseguenze molto, molto più brutte di quelle attuali. E quindi loro sono servite per arginare la frana e per contenerla in un canale. Senza contare che chi abitava in quelle case si è salvato veramente per un soffio, eh? Lì è stato un miracolo perché io sono arrivato alla Vina, proprio qui davanti alla Casa Gialla, poco prima delle 5 di mattina. E ho incontrato i proprietari della casa che è venuta giù, di una delle tre case lesionate. E mi hanno raccontato che sono... La Casa Gialla che diceva Doro, di fianco è la casa che non c'è più. Esatto, esatto. Per capirci. E mi hanno raccontato che hanno sentito nella notte dei forti rumori, ma col buio non si vedeva niente, tra l'altro teniamo conto che è andata via la luce, quindi veramente c'era notte tenebre, si sentivano dei rumori assordanti, ma non si capiva cosa stava succedendo. Quindi queste persone sono state, si sono letteralmente buttate fuori casa e questo ha fatto sì che... Perché per fortuna è arrivato un primo fronte di Frana che ha generato il panico, la paura. Esatto. Meno male perché loro sono scappati e subito dopo è arrivata... E subito dopo è arrivata l'altra ondata, le altre ondate. Mentre invece le case sottostanti, quelle che vediamo adesso nel borgo, sono state evacuate con i vigili del fuoco, che sono riusciti a intervenire dal basso e chiamare le persone e farlo uscire di casa. Questo ha fatto sì che veramente nessuno si sia fatto male. Pensate però che esperienza terrificante è stata quella notte. Ma io sono sindaco da sei mesi e mai avrei pensato di dover affrontare una situazione di questo genere. Devo dire che veramente tutta la popolazione, tutta la gente di Rezzo è stata vicina, è stata vicina a me, è stata vicina all'amministrazione, ma è stata vicina alle famiglie che hanno perso tutto e aiutandole in tutto e per tutto, in tutto quello che si poteva dare. Però come dicevo, le nostre persone, è gente che ha voglia di ripartire, è gente che ha voglia di rimboccarsi le maniche e assolutamente non farà morire i nostri territori. Però d'altra parte hanno bisogno di aiuto. Noi da soli non riusciremo a fare tutto quello che c'è da fare, ma noi metteremo il nostro per farlo, assolutamente. E anche noi faremo naturalmente la nostra parte, tenendo sempre alta la guardia su questo territorio, stando vicino ai sindaci, agli amministratori, a questi sindaci che si sono trovati non solo a fare gli amministratori, a firmare delibere, a prendersi responsabilità, ma anche a spalare fango, a improvvisarsi in tutto quello che era necessario fare in quei momenti così terribili. Le risorse, sappiamo, sono molto poche, soprattutto per i piccoli comuni, anche le risorse umane, anche le risorse in termini di professionisti, di geologi, di ingegneri. E quindi sarà necessario un lavoro di squadra vero da parte delle istituzioni. Cercheremo naturalmente tutti di fare la nostra parte e con questo augurio che voglio salutare, mandare così un saluto anche agli altri amministratori e ai cittadini della Valla Roche. Io vorrei usare ancora un secondo i nostri studi per fare un po' di ringraziamenti. Noi nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, e di questo devo ringraziare tantissimo anche Imperia TV, abbiamo aperto un conto coerente per aiutare le famiglie alluvionate. Siamo riusciti a far capire alle persone che questo impegno era veramente da destinarsi per le famiglie che hanno perso tutto. Ricordiamoci che noi abbiamo ancora sei famiglie che sono fuori casa nel territorio di Lavina, più tre che sono fuori casa nella frazione di San Bernardo. Anche perché San Bernardo comunque continua sempre a essere interessato dalla provincia del 17, che continua a essere chiusa nella versante a monte del paese. Quindi abbiamo nove famiglie che purtroppo passeranno le feste fuori dalla propria abitazione. Quindi di questo vorrei veramente ringraziare tutti, perché sono stati veramente importanti quello che è stato fatto. Un altro ringraziamento lo vorrei fare ai miei compaesani. In questi giorni, in queste settimane, probabilmente mi hanno visto scontroso o magari non aver voglia di fare tanti discorsi. Di questo me ne scuso. È comprensibile, voglio dire. Quindi auguro veramente a tutti di trascorrere delle belle giornate, delle belle ferie. Siamo alla fine del 2016. Quindi un 2017 ricco per tutti di tutto quello che di bello si può ricevere. Io ho fatto un consiglio e ho già messo in cantiere i primi soldi che sono arrivati, stanziati dai fondi regionali. Stiamo aspettando finalmente i fondi nazionali per coprirci anche le sommorgenze che sono state emesse, che anche lì sono veramente tante. Ma in questo momento mi preme veramente fare gli auguri a tutti, a tutti quanti. Grazie per tutto quello che avete fatto. Grazie, grazie al sitaco di Rezzo, a Renato Adorno e alla gente della Valla Rocha. Grandi auguri. Arrivederci. Arrivederci. Grazie. 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 Autore dei sovrapposti